C'è qualcosa nel mondo che rispecchia il mistero di Dio Trinità? Certamente, è la famiglia. La famiglia che è creata a immagine di Dio. Infatti la famiglia è un unico abbraccio, eppure ha tre espressioni di amore, l'amore paterno, l'amore materno e l'amore filiale. E più la famiglia vive l'amore, più la famiglia rispecchia il mistero bello e affascinante della Trinità. A questo punto capite subito che la guerra contemporanea contro la famiglia è una guerra contro Dio. È una guerra contro l'amore, che la vita stessa è di Dio, e di conseguenza è una guerra contro la felicità dell'umanità. Ma la Teresa un giorno disse con grande sapienza, una famiglia che si divide è come una guerra dichiarata con tante possibili vittime. E' vero. Io vi auguro, soprattutto a voi famiglie, che siete veramente specchi puliti per rispecchiare l'amore di Dio. E lo auguro a questi due sposi, Francesco e Anna, che oggi ricordano 25 anni del matrimonio. E' bello festeggiare questi anniversari perché sono la festa della fedeltà, la festa nella quale noi riconosciamo che la famiglia non è un gioco, la famiglia è un impegno, la famiglia è una missione, la famiglia ci impegna, pensate, ad essere uno specchio del mistero stesso di Dio. Auguri di cuore a voi. Saludate Gesù Cristo. Grazie. Grazie.